E con tutto quello che si mangiano la sera, per forza ci vengono gli occhi. Il problema d'altronde potrebbe anche essere che la mamma non venga più a trovarci. Io ad Angela ci voglio bene sul serio. Ci vuole bene, è certo che ci vuole bene, che se resti un ingrato con tutto quello che sta pagando per te, che ti puoi lamentare. Beh sì, ma ci vuole bene. La situazione si è arrivata a questo punto, è meglio aspettare. Aspettare? Ancuora? Signore, per raccogliere le idee, queste ragazze vedono la mamma morta, che piange. E se io non avessi paura di queste apparizioni, sul matrimonio sarei d'accordo. Intendiamoci, non è un fatto di superstizione, no, la chiesa l'ha superato, ma è la scienza stessa, la psicanalisi, Ignazio, lo stesso Freud. Ma che vuole questa nella mia vita, pure a lui? Non c'è diciamo...